e questo è il grido d'aiuto che mi è arrivato da da francesco un ragazzino tenuto in una comunità in italia tolto alla mamma insieme ai suoi fratellini e sorelline questo è il grido d'aiuto che mi è arrivato via whatsapp l'ho stampato perché è lungo e ve lo leggo ve lo leggo buonasera mi chiamo francesco ricca e sono il più grande dei quattro fratelli di cuneo chiedo il suo aiuto perché dopo che nel 2018 i miei genitori si sono separati a causa di mio padre che è un alcolista e perché abusato di me e delle mie due sorelle abbiamo raccontato mia mamma quello che abbiamo subito e ciò che è capitato dopo che ci ha fatto arrabbiare perdere fiducia nella giustizia e in tutte le istituzioni in questo momento siamo tutti divisi in quattro comunità differenti questo perché mio padre e i servizi sociali hanno deciso che nostra madre ci ha plagiato nei confronti di nostro padre in questo momento siamo molto arrabbiati molto delusi e ci sentiamo abbandonati da tutti non riusciamo a capire perché stia capitando tutto questo visto che non abbiamo fatto nulla di male se non raccontare la verità di quello che abbiamo subito noi chiediamo solo di ritornare a casa da nostra madre dai nostri amici dai nostri cani di ritornare alla nostra vita in questo momento nessuno di noi va a scuola perché non abbiamo la testa perché non riusciamo a concepire di andare in una scuola che non è la nostra con dei compagni di scuola che non sono i nostri amici di sempre abbiamo parlato finalmente col giudice dopo due anni che chiedevamo di parlare con lui le abbiamo raccontato tutto di ciò che abbiamo subito da nostro padre e del nostro desiderio di ritornare a casa ma non siamo stati ascoltati abbiamo bisogno di qualcuno che finalmente ci ascolti e provi prima di tutto a vedere se quello che diciamo è la verità senza pregiudizio siamo molto stanchi siamo delusi ci sentiamo abbandonati da tutti tranne da nostra madre che sta facendo di tutto per fare sì che i giudici assistenti sociali educatori avvocati tribunali possano capire che stiamo dicendo la verità ci hanno messo un avvocato curatore che non ci ha mai visto non ha mai parlato con noi eppure ha deciso solo leggendo dei documenti che tra l'altro sono falsi e scritti con pregiudizio che non dovevamo tornare a casa da nostra madre un nuovo provvedimento del giudice ha deciso finalmente dal 10 luglio che siamo in comunità di farci incontrare tra fratelli ma non con la mia sorellina piccola di sei anni perché secondo loro noi potremmo influenzarla non ho ben capito questa loro decisione anche perché mia sorella chiama mamma e papà due perfetti sconosciuti quindi chi è che influenza questa mia piccola sorella piccola io sono francesco sono il più grande dei fratelli ho 16 anni e mi sto battendo per i miei fratelli più piccoli perché a differenza loro io ho un cellulare spero che questo mio grido di aiuto possa arrivare a qualcuno che può aiutarci a tornare a casa grazie francesco ricca